ok sta calando il sole, adesso è il momento, entra adesso Peppe che porta sei? Alla c***a con chi è cosa? Mi sta andando malissimo Ma quando c'è? Mi ha venuto un colpo Ma quando c'è quei mostri? Quei mostri? Allora... Dei piattalli percivano le 95 E se... Allora... Allora ti spiego che era ancora, ti spiego Ci sono tantissimi, tantissimi libri Con... Cioè tantissimi... Come? Non ho capito come? Non ho capito come leggere mamma Come sta chiamando? Ah la mappa, intendi il foglietto Ma ti spiego, allora la ti dà tipo il codice Che sarebbe ad esempio il primo, il primo che è il numero che devi mettere Tu ne hai open a lista, no? Il primo numero che devi mettere è il quadrato Ad esempio, quindi il quadrato che vuole al primo Ad esempio, adesso è 7 Quindi il primo è il numero che è del rombo Adesso è 9 Capito? Chiara è... È il momento È il momento Siamo dove dovrebbe nasce la strada Di 5 anni Ok E posso doveremo? Sono la porta 28 Ok Però... Maria speriamo No 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 Signora amici, guarda a correre Eccola! Eccola Liam! E' qui! E' qui! E' scesa! Liam è scesa! Liam è scesa! Liam è solo da lei! Oh mio dio! Registra! Eccola! Solo ci vuole un segnale Vai Liam! Registra! Sto registrando! C'è un sacco di tempo che sto registrando Aspetta! Aspetta! Ci sogniamola! Ci sogniamola! Vieni qui! Aspetta! Devo cercare di vederle in faccia! Oh mio dio! Ciao zizi! Mi dispiace! Non so se è lei! Ma può essere anche che è la sorella! Perché la sorella va con sto colore... Rosa! Un po' rosso! Nel vestito! Può essere che è la sorella! Secondo me non è zizi! È la sorella secondo me! OMG! Te l'ho detto io! Sono felicitissima Liam! Non c'è la persona migliore con cui l'avevi potuto trovare! Oddio è scomparsa! È scomparsa! C'è la 40! Bravo Peppe! Ti sei perso proprio questo momento! Scusa! 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 Aspetta! Stoppa i video! Scusa! 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 Cessarsi! Scusa! Dottocchè! Scusa! Scusa! Grazie a tutti Grazie a tutti